salve ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento di papers please dopo tanto tempo siamo tornati in questo nuovo episodio allora è da tanto che non registro quindi non so quanto farò schifo e quindi aspettatevi di tutto quindi iniziamo che abbiamo già perso abbastanza tempo paradiso criminale arzosca si fa una nuova pessima nomea che non andava al mouse repubblica nega l'asilo alla dell'attrice di integra 6 dicembre 1982 allora ispettore il ministero della giustizia richiesto il nostro aiuto bollettini quotidiani corretterranno ora un elenco dei tre criminali più ricercati e confrontare vabbè bla 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 nulla di che questo perché me lo butta via che mi serviva qua ci sono c'è sempre il giornale e la prima di solito è sempre una criminale infatti abbiamo qualche domanda per te fai passare me o me la paghi a parte che al massimo sei tu che devi pagarmi per non farti arrestare però vabbè sta battuta non potrei risparmiare allora lui viene per visita per poche settimane ok e ci può stare un mese poche settimane siamo lì cosa sto facendo allora un po che non registro papers please anche perché mi scocciavo in realtà perché l'editing richiede tempo poi io ho cambiato partizione del computer sono tornato alla partizione normale quindi adesso non lo sto guardando molto quello che sto facendo però dicevo che comunque mi sembra ok passa vai dicevo che sono tornato alla partizione primaria del mac prima usavo quella dove c'è la beta cosa permessa l'entrata contraffatto e va bene non sto guardando allora qua ci vuole palle poi mi dava fastidio il rumore dei click del mouse ma dovrei aver sistemato in teoria faccio un controllo che probabilmente vi taglierò adesso se mi da un altro ammonimento mi arrabbio lui non so ha qualche problema ha la pelle viola ingegnere ok come dicevo questi si non dovranno sempre entrare al massimo avranno qualche problema ne che risolvibile insomma tipo magari l'altezza o qualcosa che con un controllo si chiarisce due mesi però mi pare tutto a posto dai mi fido ma cosa oh chiuditi no a questo sono proprio un genio io che figura di merda e vai a farti curare la pelle viola mi trasferisco qui ok immigrazione per sempre non dovrebbe avere non è nel bollettino e no non puoi è sicuramente errore il documento è valido sì certo e no non puoi tuo tono non mi piace tra parentesi mi sai che questo sarà il primo video che caricherò con il nuovo programma di editing anche se non so quando lo caricherò perché ultimamente ho già la tabella magari vi faccio due episodi in un giorno lo vediamo merda ho commesso un piccolo errore prego restituiscimi i documenti e gli altri non so se mi dia un qualcosa a fare vabbè ti arresto spero non mi desse la moneta se no mi arrabbio visita 30 giorni vediamo se sai in tre ricercati no gli anni sono stati crudeli sembri migliorata no magari non con il monumento e poi le impronte le impronte che sembrano coincidere sono quelle sbagliate quelle che non coincidono ad occhio sono quelle giuste fuori magari non questo mi trasferisco qui sì ma senza permesso di entrata la vedo un po dura ci vuole no è solo per quelli brutti quelli belli possono passare allo stesso sì questa dove vuole andare senza passaporto resto un mese per visita capelli corti a meno come capelli corti ma dove e allora capelli lunghi e rapunzel questo è valido vabbè dai passa di passaggio un paio di giorni ok che sovrappeso di descrizione ma cosa vuol dire sovrappeso ma poi non è sovrappeso c'è uno e 74 per 75 chili non è sovrappeso vabbè dovrebbe essere abbastanza giusta vabbè dai mettiamoci a sindacare ste cose assomiglia a quella che ho già arrestato forse questa e si era proprio questa hai viso interessante fai passare me o la paghi un momento prego che cosa succede ma se ti ho appena detto che ti arrestavo come fai a dire cosa succede ok giornata finita doppio clic per ispezione rapida ecco questo è utile cibo riscaldamento ok risoluzione nella chirurgia no e vabbè risoluzione rivoluzione nella chirurgia spinale le migliorimenti d'Arzosca dietro la scoperta sport e politica tutte le in it 7 dicembre 1982 qua proprio nulla nel bollettino 14 giorni in transito mi sa che non vai molto lontano te sicuramente un errore sì certo perché è normale no che vi stampino due numeri diversi nei documenti cioè a chi non è mai capitato che gli stampano morte d'Arzosca e una bomba attenzione e vabbè non metto un po di patos perché l'ho fatto l'ho giocato molte volte quindi una volta mi è capitato di esplodere forse o no che succede ah oh ah cos'è questo schifo da dilettante dobbiamo evacuare per robetta così certo che no disattiviamo apri coperchio ok ma aprilo però allora 1 2 3 bene fatto torniamo al lavoro dobbiamo chiudere presidio stronzate oggi devo guadagnare dai bomba a me vendo materiali e do percentuale che ferraglia io penso che non vale molto che chiama prossimo migrato ah intanto il tempo passava così scopo dal viaggio transito durata del soggiorno rimango due giorni allora capelli scuri non è una descrizione praticamente la maggior parte degli abitanti sulla terra i capelli scuri come se scrivessi segni particolari due occhi incongruenza ma aspetta io l'ispezione rapida che poi allora non mi serve va bene o ce la faccio che allora non mi serve più a niente la barra spezzatrice quindi resta city non è tra ricercati scadenza va bene timbro mi pare tutto ok dai facciamola passare ma perché non mettono tipo u accentata per chiamare il prossimo tendo a lavorare un altro ingegnere settimane cos'è questo ok otto settimane mi sembrano meno di sei mesi ok quindi adesso lo faccio passare perché devo guadagnare non creare problemi adesso sono altra magagna mi rabbia ok no documenti prego progettazione durata di soggiorno pochi mesi ok non è tra ricerca boston bellissimo repubblica delle donne ah no quella era il pubblico io non mi sono ancora abituato a fare il doppio clicco arresto sono niente si vabbè ciao ciao fuori dalle scatole sta registrando si ok documenti prego dai a me documenti in codice entrambi entrambi gli agenti rifiutati vittoria impossibile senza il tuo aiuto il tuo ruolo dell'ordine il ruolo nell'ordine importante è mutato dalla nascita d'arzosca quando la tirannia finirà svaniremo di nuovo oggi non riuscivo a leggere per qualche motivo no in realtà perché cercavo di leggere più velocemente possibile e quindi mi sbagliavo allora immigro afro ma cosa vuol dire cioè che descrizione è poi non è né non mi sembra sono cambiata uno che cambia etnia non l'avevo mai visto ma come coincidenti ma com'è possibile che abbia cambiato etnia vabbè non fa non mi faccio domande vabbè questo non è scaduto va bene bella alta questa e quindi direi che può passare scopo del viaggio visita due mesi ok qua non è scaduto codici vanno bene ma tu sei questa nessuna correlazione ma se lei palesemente dati coincidenti boh vabbè per il resto mi sembra posto il passaporto vediamo l'identificativo caschetto mi sembra proprio di sì 170 comunque non si vede l'altezza ogni volta il pollice non mi sembra che dia mai problemi quindi poi passare vai sì certo io che timbro andando non troppo bene quasi poi siamo a 17 minuti documenti mia presenza richiesta ok repubblica repubblica ancora controlliamo questi glorian mi pare ok vabbè passa che ti devo dire vediamo se ce la faccio a dargli adesso suona la campana cosa contraffatta ah non ho controllato i timbri vabbè amén zero ecco questo è un problema siamo in pari vabbè quindi direi che per oggi può terminare il video cosa sto dicendo vabbè io vi ringrazio per la visione vi do appuntamento ad un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti